E da Madrid a Washington alla National Gallery, omaggio a Canaletto e alla sua Venezia in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia. Venezia porta culturale verso oriente. Antonio Di Bella. Venezia come porta d'Europa verso oriente. È la chiave della mostra su Canaletto alla National Gallery di Washington. Come spiega l'ambasciatore d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata. Venezia in questo senso ha un valore paradigmatico. Come porta dell'Europa verso l'Oriente. Penso ad esempio al fatto di essere presente in modo così significativo a Istanbul. Porta proprio la dimensione di questa pittura in una prospettiva di grandissima attualità. Ci sono i campi gremiti di folla e i corsi d'acqua affollati di imbarcazioni. Non solo Canaletto ma anche 34 suoi contemporanei. Da Guardi a Bambitelli a Marischi a Bellotto. Questa è l'immagine forse più emblematica. Le navi dipinte da Canaletto che partono dal Canal Grande dirette a Oriente. Grazie. Ciao.